Con Andrea Gasparini al termine dell'allenamento a Sant'Ilario. Andrea, domenica affronterete Cantù? Sì, è sempre un piacere tornare a Cantù a giocare. Loro sono un'ottima squadra, l'abbiamo già visto anche nelle amichevoli. Andremo lì sicuramente con la voglia di portare a casa punti perché è importante e sicuramente cercare la vittoria che ultimamente ci sta un po' sfuggendo di mano. Cantù arriva come voi da tre sconfitte ed una sola vittoria. Che obiettivi avete per domenica? Come noi abbiamo tutti e due l'obiettivo, quello di vincere ovviamente. Abbiamo tutti e due bisogno di punti, noi siamo in un ottimo percorso, sappiamo che siamo sulla strada giusta. Sarà una bella partita sicuramente perché ognuno si giocherà le proprie carte nel migliore dei modi. Con Tommaso Zagni, secondo allenatore della Conad, coach, l'ultima volta che avete affrontato Cantù è stato nel pre-season dove siete usciti sconfitti due volte. Quali sono le aspettative per domenica? Di sicuro vogliamo rifarci anche perché quando avevamo fatto il pre-season erano una formazione un po' sperimentale la nostra e adesso dobbiamo rifarci la partita di domenica perché ci è rimasto molto mare in bocco e cercheremo di fare tutto per la nostra società, per i nostri tifosi e per raggiungere questa vittoria che ci manca e la vogliamo a tutti i costi.